ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato alle vostre domande eccoci qua con un'altra puntata della rubrica disquisizioni caotiche dedicata alle mie lucubrazioni mentali che in questo caso possono venire sviluppate in base alle vostre domande voi mi triggerate magari io do qualche rispostina così cercando di disquisire caoticamente nel limbo dell'orologeria diciamo così prima di passare le domande anzi prima di passare domande vi spiego come come sono nati le domande ho fatto un post riservato agli abbonati perché sono pochi gli abbonati sono 200 gli abbonati del canale in modo che così ho poche domande perché l'ultima volta che ho aperto una storia su instagram in due ore ho ricevuto 200 domande ho dovuto chiudere la storia perché 200 domande poi dopo vanno scremate in questo caso ho detto vabbè con 200 abbonati si si riduce il numero no la percentuale in realtà dopo un'ora uguale ho dovuto chiudere togliere il post eliminarlo perché avevo già ricevuto una un numero di domande talmente alto che ho dovuto cioè non accettarne più no poi qualcuno l'ho eliminata perché non aveva non aveva senso perché non esisteva comunque va bene prima di leggere le domande vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo bellissimo big crown oris big crown pointer date in bronzo completamente in bronzo con il quadrante blu sarebbe la versione mare nostrum quella riservata all'italia l'edizione limitata con il centurino in squalo blu con le impunture color bronzo che riprendono la cassa realizzato dall'amico john costraps che parte del canale realizza cinturini artigianali su misura contattatelo andate a vedere il sito lo trovate sotto in descrizione è un amico quindi ottimo ottimo cinturino in squalo mi piace tanto ho fatto anche il bagno al mare 50 metri di impermeabilità ho fatto il bagno al mare con con questo l'orologio va bene passiamo alle prime domande io ve le leggo così potete anche andrea da monte belluna ciao davide volevo esporti una mia idea ma dopo il video di ieri sera non so se è ancora pertinente creare una rubrica tipo un video al mese dove racconti la storia di un marchio secondo te cosa l'ho fatto grande e il tuo punto di vista dire cosa ti piace e cosa no magari solo quelle che non mandano le lettere degli avvocati questa è pungente una rubrica ho fatto solamente un video sulla storia delle case orologie quella di un gans che ero proprio mi sono lanciato colto dall'enfasi dell'amore per questa casa l'ho fatta e la guardano pochi questi video quali guardano la guardano poche persone non ha appeal hai capito quindi tutto il mio impegno va poi a finire in quasi niente qual è il trucco allora quando uno vuole raccontare qualcosa di una casa orologiera o qualche anche informazione tecnica infilarle laddove ci sono più visualizzazioni hai capito in un video magari del reaction ai vostri video che fa migliaia di visualizzazioni che ci metti dentro una pillola di storia una pillola di tecnica e le persone la recepiscono meglio che non un video dedicato che diventerebbe noioso quindi occorre amalgamare le varie informazioni sotto forma di intrattenimento un pochino come un documentario su rai 3 di quelli veramente tristi con la voce sottofondo oppure un documentario su di max fatto animato come è fatto no che ti coinvolge un po di più ecco questi sono i trucchi per della comunicazione per coinvolgere più persone possibili e lasciarli e instillarli nella chiorbetta qualcosina in più prossima giuseppe germana 870 ciao davide tu cosa sceglieresti tramite ocean star tribute e yema superman heritage 500 grazie allora senza dubbio io sceglierei il mido ocean star tribute lo preferisco mi piace proprio quel bracciale la forma dell'aspetto dell'orologio che è diverso dall'ocean star normale no con quegli indici rettangolari veramente un bel orologio mi piace mi piace molto tra l'altro poi direi anche che tra i due sicuramente ho come l'impressione che l'impressione fondata che mido abbia un servizio assistenza migliore rispetto a iema lo dico semplicemente per dai dai numeri dai dai numeri perché sono le vostre feedback che ci sono più feedback di problemi su l'assistenza di e ma che non di mido prossima domanda successiva allora fmg 9895 ciao davide complimenti per il canale sei un grande so che il gusto è personale ma vorrei chiederti quattro cinque orologi che secondo te sono un must da avere in collezione per un appassionato che sta iniziando la propria collezione quindi più entry level o al massimo nei mille euro bene bene qua difficile quasi fare nel gusto personale perché poi ce ne sono una marea come si fa a scegliere te ne dico cinque messi lì a caso è un secco cinque scegli lo ti un secco cinque e ci sta un un citizen pro master vabbè un citizen pro master è proprio un classico no da arriva dagli anni 90 e fa la sua bella figura o altrimenti anche il citizen pro master marine che è uscito ora non è male è un po meno iconico però è un bell'orologio non ti so prx io ti direi un ti so prx che siamo sotto i mille proprio un bell'orologio oppure sempre rimanendo ti so qua scegli uno l'altro un anche il tiso 1938 heritage quello certificato cosco quello lì è sotto i mille c'è tanta ciccia un gliss in combat sub con poco più di 500 euro tipo di un orologio fatto benissimo da 39 o da 42 a scelta e poi l'emilton khaki field che quello è un classico per tutti i gusti per tutti i palati no siamo sempre sotto i mille è un orologio che puoi utilizzare tutti i giorni con un calibro preciso insomma è un bello orologio va benissimo va benissimo poi ci abbiamo andrea nardo buongiorno davide una domanda che mi ronza in testa da tempo l'avrei sono un appassionato di vintage e sono alla ricerca di un déjà splexi con un determinato quadrante svolgo le mie ricerche principalmente su crono 24 e noto che sotto un certo periodo gli orologi con scatole garanzia sono molto rari meno del 20 per cento di quelli in vendita le motivazioni sono spesso le solite andato smarito con un trasloco oppure ce l'ho da qualche parte ma non riesco a trovarlo io invece ho ancora la scatola del monvis bla 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 c'è qua c'è qualche spiegazione statistica che spieghi questa cosa sono tutti i orologi di dubbia provenienza scatole garanzia hanno un mercato parallelo particolarmente remunerativo grazie la spiegazione statistica è che più gli orologi sono vecchi e meno troverai la scatola e la garanzia no questo è poco ma sicuro una volta non si stava non si aveva cura del corredo così come lo sia adesso era esattamente come comprare un elettrodomestico la maggior parte di noi butta via scatola tutto e anche la garanzia figurati visto tutto no quindi statisticamente parlando più vecchi sono meno è la possibilità di trovare scatola e garanzia poi in secondo luogo il discorso di che siano tutti no non sono tutti contraffatti quelli senza scatola e garanzia il rischio è quello cioè se io trovo un venditore che mi vende un orologio del 2022 senza scatole garanzia gli dico ma perché non è la scatola garanzia al giorno d'oggi tutti ce l'hanno la scatola è talmente nuovo che devi avercela la scatola garanzia se non ce l'hai c'è qualcosa o mi dà una spiegazione logica o se no c'è qualcosa che puzza e io lo evito perché poi ci sono quelli con scatola garanzia preferisco quelli poi la cosa interessante che dici te che c'è proprio un business delle scatole non delle garanzie è illegale come business ma delle scatole c'è perché quando io ho comprato il mio acquaterra del primi anni 2000 sono andato a milano da questo ragazzo lui aveva l'omega acquaterra e le tre card una cost quella di garanzia e una terza card ma non aveva la scatola anche gli ho chiesto ma come mai non è perché lui le scatole le vendeva le scatole degli orologi le vendeva ora non so come deve essere messo uno economicamente per andare a vendere le scatole degli orologi ma evidentemente c'è un bel giro d'affari ora il problema per me non si pone perché una scatola la trovo è di quelle rosse con la pelle che si screpola che omega nei primi anni 2000 le faceva tutte così quindi credo che il buon giacomo uno me la recupererà però per dirti c'è un business di scatole per cui ci sono anche persone ora al giorno d'oggi che vendono le scatole degli orologi poi secondo me però è sbagliato perché ci fai quei 50 euro ora ma ce li puoi perdere dopo quando lo vai a vendere perché se me lo vendi senza scatola ecco cosa devi togliere no quindi sì c'è anche un business delle scatole poi carlo bergamaschi 2801 ciao davide ricevi mai proposte di collaborazione da altri youtubers da quando il canale si è ingrandito e se si ha mai pensato di accettare poi quanto ti ha cambiato la vita di tutti i giorni il fatto di avere un canale youtube che si sta ingrandendo sempre di più grazie se risponderai e grazie soprattutto poi non c'è più non si legge più allora proposte di collaborazione io ne ricevo ne ricevo ma non solo dagli amici youtuber ora ultimamente un po meno ma ne ho sempre ricevute solo che io per filosofia mia personale del canale non collaboro con nessun altro canale youtube non collaboro proprio perché l'ho fatto nei primi tempi due o tre volte con due o tre youtuber mi sono trovato male ci vado a litigare perché il mio principio è diverso da loro e quando io sbatto le cose in faccia poi dopo si va a litigare quindi io non collaboro più con nessuno youtuber né qua né là nessuno giù in nessun modo intervista doppia quello che vuoi dire niente non faccio niente non collaboro nemmeno con la maggior parte delle case ricevo un sacco di ora un canale come il mio che ne ha 80.000 di iscritti vi domanderete quante le ricevono gli altri le richieste di collaborazione le riceverò anche io le ricevo alla maggior parte dico di no alla maggior parte dico di no perché non sono a mio agio in quelle situazioni io collaboro con la gioielleria pasquale domenici nella quale vado fisicamente sono lì è mio amico tasto con mano e c'è un rapporto di lunga data oltre che di amicizia gianco straps che fa cinturini è qua vicino vado in loco nel suo laboratorio è mio amico e valuto la qualità la sua qualità queste due persone sono fisse poi per quanto riguarda gli orologi a volte sì a volte io non li vado a cercare marchi che per collaborare sono loro che mi contattano sono loro che mi contattano io valuto se è sì o no maggior parte delle volte è no poi prediligo a volte accettare più facilmente quelli stranieri che sono meno conosciuti in italia piuttosto che i soliti noti che uno accende youtube e vede 10 video recensioni in una settimana di quello stesso modello di quello stesso marchio ma che minchiata è io non la faccio non mi interessa l'ha già fatta tutti gli altri guardate quelli degli altri no quindi mi contatta magari qualcuno a volte poi le faccio anch'io è perché mi lascio prendere un po' dall'orologio bello bello sì mi piace la faccio poi il fatto che mi ha cambiato la vita youtube sì però è talmente graduale la cosa cioè un mattoncino alla volta nel tempo che non non te ne accorgi no se vedi la se guardo la differenza di adesso all'inizio mi rendo conto che gli impegni sono cambiati che le collaborazioni con la gioielleria mi portano in certe situazioni che prima non potevo avere no è solo ma è stata così graduale la cosa che io non me ne sono nemmeno accorto quindi sono anche a mio agio in questa situazione al momento perché perché è successo tutto piano piano poi guardiamo un pochino isdt bikes tube ciao davide qual è il diver tool watch che più ti piace in questo momento grazie allora il tool watch il diver tool watch uno zrc a caso secondo me ti prendi uno zrc a caso e quello lì è il perfetto tool watch diver con i suoi bei brevetti la sua qualità eccelsa veramente un bello orologio uno di quelli lì a caso in questo momento ciao davide come ti regoli per le revisioni degli orologi dopo quanto tempo dall'acquisto da nuovi andrebbe fatta secondo te sia entry level citizen sia omega considerando il fatto che avendo più orologi non li metti tutti i giorni ok come mi regolo per fare la revisione ora il tempo standard di solito delle case che dicono che dichiarano a cinque anni no poi ci sono altre case come oris che dieci anni ti da dieci anni di garanzia dieci anni dalla prima revisione figurati un po però io cinque anni non li non li valutano vado un pochino oltre 6 7 8 questo è il massimo che si può aspettare prima di fare una revisione per gli orologi e tre leve si va anche questo discorso qua però a un certo punto devi anche valutare per quanto tempo lo tieni un orologio entry level lo tieni per dieci anni non credo di solito gli orologi entry level si riesce a farli girare più facilmente nel senso mi compro un orologio da 300 lo utilizzo due anni lo vendo ne prendo un altro ecco c'è sempre questa questo ricambio di orologi che non ti permette mai nemmeno di tenere il conto di quanto tempo è passato senza contare che poi io utilizzo anche un trucco nel senso che ok hai tanti orologi li utilizzi poco arriva il momento di fare la la revisione no sono passati sette anni devo fare la revisione a questo orologio costoso non ho i soldi per farla può succedere un momento no allora cosa faccio non è che continuo ad utilizzarlo senza revisione lo metto lì so che quello lì deve andare in revisione e non lo utilizzo finché non gliela faccio può essere un mese due mesi sei mesi fra un anno gliela faccio fare lo tengo fermo lì così non non si rovina utilizzo gli altri sapendo che quello però non posso utilizzarlo perché lo devo mandare in revisione così posso anche scalare rimandare la revisione non fare una scaletta di vari orologi eccetera eccetera poi c'è da dire che quando io compro un orologio perché non mi piace comprare gli orologi del 2000 costosi perché devono essere revisionati ad esempio quando io ho comprato il mio mega acquaterra del 2002 la prima cosa che ho fatto boom mandato subito a fare la revisione io voglio partire da un orologio sicuro non lo tengo un orologio di vent'anni senza sapere che dove è stato cosa ha fatto senza revisione subito fatta la revisione ancora prima di utilizzarlo ho preso l'omega devil subito del 2002 subito fatta la revisione 20 anni in cassaforte è stato non ho utilizzato nessuno però subito revisione è per questo che se io devo prendere un orologio vecchio 20 anni costoso e gli faccio subito la revisione voglio metterci il punto di partenza è quello lì e io sono lì ok poi guardiamo un pochino cosa abbiamo non c'è più silvio 96 ciao davide sono un abbonato top grade volevo domandarti ma il tseo heritage 38 mm cosc che hai recensito pochi giorni fa dato che il calibro eta è base come mai lo certificano cosc e poi c'è una carta che certifica il cosc ciao love la carta non lo so se c'è non ho guardato la scatola ho preso solo l'orologio per fare la recensione sapete che esiste sia la possibilità che ci sia una carta vera e propria che ti indica il certificato cosc una card oppure anche niente cioè lo deve richiedere la casa al laboratorio costo cosa vuole chiaramente con concursi diversi che suppongo di questo in questo caso non lo so tv mi chiedi perché c'è il calibro base dentro ed è certificato cosc ora non sappiamo se il calibro e base quando io ho fatto la recensione ho detto che il calibro non è decorato che solitamente si utilizza un top grade per fare il cosc e il top grade è decorato mentre questo calibro qua meta 28 24 che dentro al tesso non è decorato potrebbe anche essere un uno di quelli che loro denominano top grade cioè con quei materiali con quella spirale con quel il bilanciere però senza aver fatto le decorazioni siccome eta fa parte del gruppo glielo possono chiaramente dire sì voglio tutti i componenti esattamente come quello top grade però non stare a decorarli qua andiamo sul prezzo e abbattiamo il prezzo infatti costa meno di mille euro 800 qualcosa io presumo sia così non ne sono sicuro ma presumo sia così roberto salvini ng9 ju ciao davide sono anche un nuovo abbonato anche se ti seguo da almeno due anni ti faccio complimenti per la competenza e ti chiedo cosa pensi di foibos magari in qualche occasione ne hai parlato ma non credo ci siano recensioni grazie un caro saluto e continuo così ecco foibos è uno di quegli orologi che non ho mai recensito certo non vado a contattarli per dirgli mandatemi un orologino no non li contatto se mi vogliono contattare loro mi contattano se mi contattano non mi interessa posso anche sembrano fatti bene mi sembrano belli come orologi mi sembrano non ho mai tastato pregi e difetti però vederli ho bisogno anche recensioni di altri e sono fatti bene sono orologi validi foibos poi guardiamo un pochino andrea rotoli ciao davide una domanda futuristica ma non troppo lo compreresti mai un orologio che trovi esteticamente interessante sapendo che però il suo design è stato generato con l'intelligenza artificiale è bella domanda questa no io non lo comprerei non lo comprerei semplicemente per il fatto per il concetto che porto avanti io cioè che dietro un marchio di orologi dietro un brand ci deve essere qualcosa dietro ma quel qualcosa non è che deve essere la storia il blasone può essere tutto possono essere le persone possono essere il blasone la storia e musei le capacità tecniche ci deve essere qualcosa anche semplicemente una persona micro brand con dietro una persona simpatica però per assurdo ci deve essere qualcosa dietro ok se lo disegna l'intelligenza artificiale non c'è nessuno cioè colui che li messo lì a capo di questo brand cosa fa niente è un mero commerciante non mette nemmeno un po' di quello sprizzo di umanità di umano che ci deve essere nel costruire un orologio anche con gli errori che ci devono essere ma no un orologio generato con l'intelligenza artificiale di design non lo comprerei simone pasquali 443 buongiorno a tutti davide vorrei chiederti qual è se ce l'hai l'orologio preferito della tua collezione grazie e buona giornata bella domanda l'orologio preferito della mia collezione è il rolex digest 41 in acciaio e oro veramente ogni volta che me lo metto rimango rimango affascinato da come sta il pulso proprio veramente non ci si può dire niente mi piace veramente tanto però per assurdo non è quello che indosso di più quello che indosso di più per esempio è l'oris diver 65 acciaio e bronzo che ho quindi potrebbe essere quello il mio orologio preferito anche se non lo è no per definizione il fatto che io lo indosso più spesso mi deve portare a dire quello cioè c'è altro da fare altri motivi non ce ne possono essere addosso di più quindi quelli dovrebbe essere il mio preferito o perlomeno dai uno uno dei miei preferiti aramu 9248 ciao davide domanda su brightling cronomat gmt che scarto giornaliero hai il tuo è il mio a più 5 secondi al giorno perfettamente in linea con i parametri cork marco giacosa 887 grande davide cosa ne pensi del mido multi fort tv big date e tu tra le varie colorazioni del quadrante quale sceglieresti blu verde o nero un'alternativa sempre di forma e sulla stessa fascia di prezzo intorno ai mille quale potrebbe essere quando mi chiedono le alternative cioè qua diventa allora video multi fort tv big date io l'ho visto in presentazione in anteprima a marzo proprio di fronte al quartiere generale di di su e mi dispiace anche perché lì per lì io proprio si sono anche offesi sicuramente perché gli ho proprio detto ma no ma sto qua no perché lo vedevo troppo simile altri orologi al al nautilus no lì per lì ho detto ma no ma sto orologio qua no e sicuramente sono anche offesi sono rimasti male ha fatto una faccia un po così però mi viene spontaneo dirglielo ora col senno di poi l'ho rivalutato cioè vabbè le forme sono quelle un po di tutti quegli orologi lì così di forma però è un gran bello orologio l'ho rivalutato veramente blu lo sceglierei io blu blu è un bello orologio e tra l'altro non l'ho nemmeno recensito per il motivo di cui sopra perché in concomitanza con l'uscita non mi andava di recensirlo non faceva per me invece ora ho cambiato un pochino idea e sulla sulla forma lì nella stessa fascia di prezzo c'è il michelle herblaine cap camarade square c'è quello lì che è un pochino così ma non c'è la big la grandata la grandata è una complicazione particolare con due finestre tra l'altro i primissimi sembra abbiano avuto dei problemi con la data poi risolti dall'assistenza mido come dicevo prima mido l'assistenza c'è la buona giulio settani 17 66 ciao davide sto valutando seriamente di prendere un omega speed master racing nero da 40 mm tuttavia l'uscita dell'oris diver 65 crono 40 mm mi sta facendo tribolare esteticamente li adoro entrambi ma forse mi attira di più il livello tecnico di omega beh stiamo paragonando due marchi un pochino differenti tra loro ora lo speed master racing da 40 mm è fuori produzione quindi non ha nemmeno senso con il diver 65 cronografo che è uscito ora che è ancora a catalogo poi non so quanto costano omega racing nero ma quelli che sono a catalogo ora di racing con il calibro passale costano 10.000 passa euro questo qua questi qua usati non lo so fondi di magazzino non ho idea però sono i più brutti che esistono quelli di racing con quei contatori con quei con quel quadrante bruttissimi io in certi casi chiaramente cioè prediligo il contenuto tecnico ma un orologio brutto con un bel calibro io non lo comprerei non mi piace a questo punto preferisco l'oris diver 65 crono con il suo sellite sv500 dietro dentro ma è un bel orologio mi piace molto iv allora renato bogani 35 18 ivc portofino pareri l'ivc portofino è un gran bel orologio è però a me non mi a parte che il marchio giustino non mi crea tutta quella pil che creata diciamo è inspiegabile no ognuno di noi ha dei dei marchi che predilige e dei marchi no ma senza avere motivazioni plausibili proprio io sì a me non è che mi fa impazzire portofino sarebbe un bel orologio se non che poi c'ha quei numeri spa facendo tante referenze ora io non so quale tu mi stai indicando quella che è a catalogo ora c'è anche la 37 mm che è perfetta come misura faccia quel numero romano sopra la su e uno giù qua che veramente sono un pochino non mi garbicchiano tanto poi il calibro dentro è derivato dell'età 28 92 niente di che perché c'è anche io sono 5 mila euro con dentro l'età però se mi piace l'orologio ci vado sopra il calibro se l'orologio già di partenza non mi piace e poi c'è anche il calibro allora non ho proprio motivo per farlo mio quindi sicuramente sono buoni orologi non aveva avuto uno in mano di portofino anche io ricordi però sicuramente non c'è non puoi sbagliare perché se ti piace per forza times tomorrow 9323 ciao davide si è visto poco sul tuo canale mido multi for two crowns fuori produzione acquistato nuovo se gli dai un'occhiata puoi dirmi che ne pensi nel mido multi for con due corone cosa ne penso è che un orologio come si deve c'è poco da stare a cantare va benissimo le finiture non me le ricordo come faccio a dargli un'occhiata comunque è un bel orologio danilo danilo mariano 15 36 grande boss aspettiamo con ansia il video sulla collezione aggiornata al 2023 mi dispiace ma caro danilo non la farò il video sulla collezione non mi piace mettere in mostra gli orologi siamo arrivati al punto che non voglio attirare hype perché ogni volta che faccio il video sulla collezione in passato faceva 200 mila visualizzazioni non so quante ne facevano quindi vuol dire che tantissime persone se lo trovano sulla home della paginata di youtube come suggerimento tantissime persone vuol dire anche esterne che non c'entrano niente col canale no curiosi semplicemente curiosi e a me non mi va questa cosa quindi l'anno scorso l'ho fatto solamente per gli abbonati in modo da avere un ristretto numero di visitatori no proprio per farlo vedere ai quelli più stretti quest'anno invece non preferisco di no non la faccio nessuno nessun video della collezione abbiate pietà boh mi sembra di aver detto tutto spero vi sia piaciuta questa domanda dedicata alle domande risposte caotiche vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube la iscriviti al canale